Al nostro insediamento, circa due anni fa, con la giunta a Quaroli, ci eravamo posti degli obiettivi. Riportare al centro del centro Italia la nostra regione, come collegamento tra nord e sud della nostra nazione, ma anche come collegamento est-ovest. Fondamentale era sbloccare l'incompiuta dell'incompiuta del centro Italia, ossia la Fano Grosseto. Lo stiamo facendo, lo stiamo facendo passo dopo passo. Ieri è stato il coronamento e il riconoscimento di questo grande sforzo della regione Marche da parte del governo, anche con lo stanziamento dei 150 milioni che ci permetteranno nei prossimi mesi di riaprire i cantieri. Ma c'è qualcosa di più. Alla Guinza dovranno essere collegate la pedemontana nord della nostra regione, quindi il tratto Fabriano, Sassoferrato, Serra Sant'Abbondio e Cagli, ma abbiamo ottenuto anche i fondi nell'ultimo CIPES di fine anno, presieduto dal capo del governo, onorevole Giorgia Meloni, gli investimenti e le risorse per la progettazione delle intervallive, ossia delle bretelle di collegamento dei nostri territori, dalla Valle del Foglia, quella del Cesano, verso la Fano Grosseto. Con le intervallive Fabriano, Sassoferrato, Fossombrone e il collegamento tra Carpegna, Lunano e Sant'Angelo Invado. E questi sono anche i primi passi alla luce di un bilancio proiettato agli anni a venire che cambia passo sia a livello di quantità di investimenti che di qualità. Sì, grande qualità degli investimenti nel bilancio della Regione Marche perché per la prima volta abbiamo inserito in solo tre mesi tra assestamento di bilancio e bilancio approvato negli ultimi giorni dell'anno appena trascorso oltre 250 milioni di nuovi investimenti per strade, edilizia sanitaria ospedaliera, edilizia scolastica di qualità, le nostre ciclovie, alcune riguardano proprio le valli della provincia di Pesorurbino oltre che la ciclovia adriatica, la sicurezza stradale nei nostri territori comunali. La Regione non ha mai fatto uno sforzo così grande verso i comuni. In solo due anni oltre 40 milioni di investimenti diretti dalla Regione verso i comuni perché sappiamo che i comuni, le amministrazioni comunali sono la prima trincea nei confronti dei cittadini dove i cittadini tentano di rifugiarsi per i loro bisogni. Non potevamo non essere vicini nella filiera istituzionale proprio all'ente locale e quello che è percepito più vicino alla comunità e al cittadino. Poi tanti altri investimenti. Penso al fattore Q, quello che chiamiamo fattore qualità affinché vi sia una progettazione anche negli enti locali di altissimo livello. Una progettazione che non risolva soltanto il problema delle tante buche che abbiamo sulle strade comunali o a volte anche provinciali ma che sfruttino le esigenze di sviluppo del loro territorio per creare un circolo virtuoso di sostegno all'economia cittadina. Ebbene il bilancio fa tutto questo. Con delle cifre ben chiare, al di là di ogni dubbio. Nell'ultimo triennio delle giunte precedenti, della giunta precedente ma anche quella degli anni precedenti i bilanci stanziavano mediamente nel triennio il 9% in investimenti. Siamo arrivati ad investire il 24% delle limitate risorse che gli enti pubblici hanno a disposizione negli investimenti a favore delle nostre comunità. con un picco nel 2025 perché tendiamo ad aumentare questi investimenti positivi che devono generare sviluppo economico nei nostri territori al 30,33%. Un bilancio di tutto rispetto, non solo nella quantità delle risorse ma come diceva lei, nella qualità delle risorse investite per le nostre comunità. Grazie. Grazie.